Carissimi amici, siamo con il Sindaco di Paganico Savino. Siamo tornati nuovamente questa volta per promuovere una vostra tradizione, una sagra importante. Sì, buonasera, buonasera a tutti. Vi ringrazio per questa nuova visita. È una manifestazione importante, è la 31esima edizione. C'è un bel gruppo di persone della Prologo che stanno lavorando, c'è abbastanza partecipazione. Aspettiamo fiduciosi una buona frequenza domani per promuovere il nostro paese e il territorio. Siamo arrivati, prima ti abbiamo visto proprio indaffarato, stai facendo un sacco di cose belle insieme a loro. Questa è la cosa bella, che il Sindaco è proprio in mezzo alla gente, in mezzo al popolo, con la Prologo ad organizzare tutto. Vabbè, insomma, io ho pensato di nascondermi un po', però questa cosa mi fa piacere perché io ho contribuito a fondare la Prologo nel 90, ne sono stato presidente per 20 anni e sono rimasto molto legato. E poi questo spirito di volontariato è quello che ci caratterizza un po' tutti e quindi è giusto anche dare l'esempio, oltre che un piacere perché poi quando si lavora insieme ci si diverte, si scherza e si sta anche molto bene. Siamo felici di essere qui, saremo sempre al vostro fianco per promuovere il territorio. Grazie, grazie sempre della vostra presenza. No, un'altra freccia più.